Il controllo di petto e il destro potente sotto l'incrocio di Eric Gerbi, non solo come gol vittoria, ma anche come metafora della voglia della procesto di tornare alla vittoria e di un muro, quell'eretto dalla Virtus Verona che cade dopo 72 giorni di imbattibilità in campionato. Solo grandi emozioni all'Ernesto Obrella di Sesto San Giovanni, dopo i primi 20 minuti in cui succede poco, Gerbi appena entrato al posto dell'infortunato d'amico, protegge palla, favorisce l'inserimento di Sgarbi che stringe il destro, ma lo stringe troppo. Ci prova anche da fuori aria la formazione allenata da Castellazzi che sostituisce lo squalificato Andreoletti. Radelli prova a calciare d'interno collo, palone centrale respinto da Giacomel. Ancora dalla distanza, questa volta Capelli che trova una doppia deviazione, si inserisce Bianco che tra portiere e difensore, ci mette la punta e porta avanti la procesto. Terzo gol in campionato per Bianco, grande opportunismo del numero 21. Risponde nella ripresa la Virtus Verona, angolo che arriva dalle parti di Danti, controllo destro. Alzato sopra la traversa da Del Frate, sempre da calcio d'angolo, sempre da sinistro. Traiettoria perfetta sulla testa di Faedo che prende tutti sul tempo e schiaccia all'angolino l'1-1 della formazione Veneta. Secondo gol in campionato per il difensore centrale. Torna ad attaccare la metà campo avversaria, la pro sesto. Gerbi lascia sfilare il pallone, Sgarbi lo allarga per l'arrivo di Radelli che incrocia. Anche lui però stringe troppo la conclusione. La Virtus Verona ha l'occasione per andare avanti al 79esimo. Casarotto per Vesentini, tiro cross, arriva una linea scivolata. Il palo salva la pro sesto e salva Del Frate. Il cronometro scorre e arriva al novantesimo minuto. L'1-1 sembra sempre prendere di più forma. Capelli però sfida Manfrin, crossa per Gerbi che controlla con il petto. Non la vede la porta, ma la sente. Destro, potente e preciso sotto l'incrocio che manda in estasi l'Ernesto Breda. Settimo gol in campionato per Eric Gerbi. Di sicuro il più bello e il più importante realizzato in questa stagione dall'attaccante in prestito dalla Sampdoria. Al novantaquattresimo il tripice fischio di Centi dice che finisce 2-1. La pro sesto torna alla vittoria e sale a 60 punti a meno 5 dalla capolista Feralpi Salò.